Buonasera, benvenuti a quest'ultima giornata di Ormeggi Festival. Sta per iniziare la presentazione di Silvia Camerino, un giorno questa terra sarà bellissima, con Antonio Chieffallo che modererà l'incontro. Prima di iniziare, prima di dialogare con un altro gradito ospite che è il sindaco di Vibbo, Maria Limardo, Vibbo capitale italiana del libro del 2021, chiamo anche questa volta, anche per questa presentazione, coloro i quali stanno introducendo con incursioni teatrali gli incontri, quindi coloro i quali stanno frequentando il corso cult di scenari visibili tenuto da Dario Natale, prego potete accomodarvi, puoi accomodarti, perfetto. Quando fu il giorno della Calabria, Dio si trovò in pugno 15.000 km quadrati di argilla verde con riflessi viola. Pensò che con quella creta si potesse modellare un paese di 2 milioni di abitanti al massimo. Era teso, in un maschio vigore creativo il signore, e promise a se stesso di fare un capolavoro. Si mise all'opera e la Calabria uscì dalle sue mani più bella della California e delle Hawaii, più bella della costa azzurra e degli arcipele coi giapponesi. Diede alla Sila il Pino, alla Spormonte l'Ulivo, al Reggio il Bergamotto, allo Stretto il Pesce Spada, a Scilla le Sirene, a Chianalea le Palafette, a Bagnare i Percolati, a Palmi il Fico, alla Pietrarosa la Rondine Marina, a Gioia l'Olio, a Ciroo il Vino, a Rosarno l'Arancio, a Nicotera il Fico d'India, a Pizzo il Tonno, a Bibbo il Fiore, a Tiriolo le Belle Donne, al Mesima la Quercia, al Busento la Tomba del Re Barbaro, alla Mendolea le Cicale, al Crati l'Acqua Lunga, allo Scoglio il Lichene e alla Roccia all'Oleastro, alle Montagne il Canto del Pastore errante da uno stazzo all'altro, al Greppo la Ginestra, alle Piane la Vigna, alle Spiagge la Solitudine, all'Onda il Riflesso del Sole. Poi distribuì i mesi e le stagioni alla Calabria, per l'inverno concesse il Sole, per la Primavera il Sole, per l'estate il Sole, per l'autunno il Sole. A gennaio viede la castagna, a febbraio la pignolata, a marzo la ricotta, ad aprire la focaccia con l'uovo, a maggio il pesce spada, a giugno la ciliegia, a luglio il fico melanzano, ad agosto lo zibibbo, a settembre il fico d'India, ad ottobre la mostarda, a novembre la noce e a dicembre l'arancia. Volle che le madri fossero tenere, le mogli coraggiose e le figlie contegnose, i figli immaginosi, gli uomini autorevoli, i vecchi rispettati, i mendicanti protetti, gli infelici aiutati, le persone fiere, leali, socievoli e ospitali, le bestie amate. Volle il mare, sempre viola, la rosa sbucciante a dicembre, il cielo terzo, le campani fertili, le messe pingui, l'acqua abbondante, il clima mite, il profumo delle erbe inebrianti. Operate tutte queste cose nel presente e nel futuro, il Signore fu preso da una dolce sonnolezza in cui entrava il compiacimento del Creatore verso il suo capolavoro raggiunto. del breve sonno divino approfittò il diavolo per assegnare alla Calabria le calamità, le dominazioni, il terremoto, la malaria, il latifondo, le fiumare, le alluvioni, la peronospera, la siccità, la mosca olearia, l'analfabetismo, il punto d'onore, la gelosia, l'onorata società, la vendetta, la lomertà, la violenza, la falsa testimonianza, la miseria, l'emigrazione. Dopo le calamità, le necessità, la casa, la scuola, la strada, l'acqua, la luce, l'ospedale, il cimitero, ad esse aggiunse il bisogno di giustizia, il bisogno della libertà, il bisogno della grandezza, il bisogno del nuovo, il bisogno del meglio. E a questo punto il diavolo si ritenne soddisfatto del suo lavoro. Toccò a lui prendere sonno. Mentre si svegliava il Signore, quando aperto gli occhi poteva abbracciare in tutta la sua vastità la rovina recata alla creatura prediletta. Dio scaraventò con un gesto di collera il maligno nei profondi abissi del cielo. Poi lentamente, rasserenandosi, disse questi mali e questi bisogni sono ormai scatenati e debbono seguire la loro parabola, ma essi non impediranno alla Calabria di essere come io l'ho voluta. La sua felicità sarà raggiunta con più sudori. Ecco tutto. Utta fa un giorno, una notte fatta, una notte che già contiene all'albore del giorno. Grazie, grazie di cuore. Maria Limardo, prego. Allora, il Sindaco di Vibo è qui ovviamente in veste di primo cittadino della capitale italiana del Libro 2021. Quale migliore occasione per noi avere, e quale onore avere una città così vicino a noi, insegnita di questo riconoscimento? Cosa vuol dire per la Calabria? Intanto, grazie per l'invito, sono qui davvero, partecipo con gioia a questa Kermess. L'ho detto poco fa con qualcuno, ho trovato un ambiente bellissimo, ospitale, accogliente, soprattutto quello che mi ha colpita è l'entusiasmo di voi giovani nel portare avanti questa bellissima realtà, nonostante tutto e tutti e nonostante le straordinarie difficoltà che immagino ci siano nello svolgersi quotidiano delle cose. Che dire, Vibo, città, capitale italiana del libro per l'anno 2021 non è una cosa che riguarda solo la mia città, ma è un evento, un'occasione, un'opportunità che si offre a tutta la Calabria. Io ho già preso contatti con il Presidente Spirri e vuole fare interamente sua della Calabria questa occasione che è veramente straordinaria. Del resto, al momento della proclamazione, lo stesso Ministro Franceschini ha ribadito che occasioni di questo genere servono certamente per portare avanti un messaggio culturale, per una elevazione generale nel senso culturale delle nostre comunità, ma soprattutto costituisce occasione unica, straordinaria, importante per la valorizzazione dei nostri territori. In questo senso ci stiamo muovendo e la mia presenza qui oggi vuole essere testimonianza proprio di questo, di come e quanto questa proclamazione non sia un fatto egoistico che riguarda soltanto la mia città, ma è un qualcosa che si deve allargare a macchia d'olio fino a raccogliere la Calabria intera. Oggi siamo qui, ma insieme con l'assessore Daniela Rottino che è qui con me, saremo a Rossano Corigliano da qui a qualche giorno e poi ancora in moltissimi altri posti di tutta la Calabria. Quindi una viva città culturale che trova in questo riconoscimento la sua sintesi probabilmente, anche perché in questo territorio ci sono tantissime realtà associative come la nostra, ma come tante altre che tentano di promuovere la lettura, di promuovere il concetto di libro a 360 gradi. Quindi è bello anche sapere che Vibo si possa in qualche modo mettere a servizio di tutta la regione, possa mettere a servizio questo riconoscimento per l'intera Calabria. Io ringrazio anche l'assessore perché ci ha accolti in maniera anche abbastanza ospitale l'altro giorno e avete accolto il nostro invito che anche per questo soprattutto vi ringrazio. Quali sono i progetti futuri per proseguire un po' questo riconoscimento? Ma noi ovviamente abbiamo concorso con un progetto ben preciso, non siamo nuovi, diciamo la città di Vibo Valencia come è noto ha una tradizione culturale attuale, ma ha soprattutto una storia alle spalle in punto di cultura. Saprà senz'altro, lei è giovane, ma saprà che la città di Vibo Valencia da sempre storicamente è stata meta di tutti gli studiosi più autorevoli non solo della Calabria ma a livello nazionale e quindi ha una sua storia in questo senso. Del resto negli ultimi anni noi abbiamo conseguito il titolo di Vibo città che legge, abbiamo stipulato moltissimi patti per la lettura che sono stati apprezzati dal CEPEL e che appunto hanno visto comunque un percorso a coronamento del quale abbiamo presentato questo progetto ed è stato ritenuto assolutamente valido. Che dire, il progetto è un progetto composito, lo abbiamo elaborato appunto con l'assessore Rotino a 360 gradi e sarà svolto nell'arco di un anno, per cui abbiamo un anno davanti a noi per realizzare questo programma che è molto ricco, molto vasto, molto intenso, molto impegnativo. Va benissimo. Allora noi adesso lasceremo ovviamente spazio alla presentazione di Silvia Camerino, io la ringrazio nuovamente per aver accettato l'invito. Cosa si augura nel 2022? Quali sono i risultati che vorremmo conseguire? Beh, intanto innanzitutto quello di far riscoprire l'orgoglio identitario ai cittadini calabresi. questa è una mission importante che io sto attuando già nella mia città, un senso di appartenenza, un senso di identità maggiore, ma fare scoprire un orgoglio identitario e quindi amare la propria terra ancora di più di quanto non la si ami. Poco fa è stato letto un brano eccezionale da far gelare il sangue nelle vene, credo che quello debba appartenere a tutti quanti noi. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo far capire al mondo come conclude appunto quello scritto che la Calabria c'è, merita il conseguimento di sempre più importanti obiettivi. Siamo un po' più in ritardo ma sono certa che ce la faremo. Ce la faremo, ce la faremo. Maria Limardo. Grazie.